Nuovo appuntamento con la meteorologia nel corso della quale il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteosette.it ci traccerà un bilancio del tempo previsto per questo fine settimana. Giuseppe vogliamo informare i telespettatori di Cilento Channel partendo dalla situazione attuale del tempo. Sul Mediterraneo la pressione atmosferica è in diminuzione a causa di un vortice depressionario che dal nord Europa scivolerà lungo l'Adriatico nella giornata di sabato interessando marginalmente la nostra regione. Sarà il preludio di un drastico cambio di circolazione che come vedremo si concretizzerà all'inizio della prossima settimana con l'alta pressione che abbandonerà la nostra penisola consegnandoci un tipo di tempo più consono al periodo in corso. Che cosa ci attende invece per le giornate di domani sabato 8 giorno dell'Immacolata e domenica 9 dicembre? Per domani sabato 8 dicembre avremo cielo nuvoloso localmente molto nuvoloso con associate precipitazioni di debole o moderata intensità più probabili sul versante occidentale. Temperature in lieve diminuzione venti tra moderati e forti da ovest e mare da mosso a molto mosso fino ad agitato a largo. Per domenica cielo irregolarmente nuvoloso con basso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie venti in ulteriore rinforzo da nord ovest soprattutto lungo la costa. Mare agitato. E sulla tendenza della prossima settimana invece il tempo come si prospetta? A partire da lunedì le correnti si disporranno dei quadranti settentrionali trasportando aria via via più fredda. Le temperature dunque subiranno una sensibile diminuzione a partire dalla serata con valori che entro mercoledì 12 si porteranno al di sotto della media del periodo. Tuttavia non sono previste precipitazioni di rilievo ed eventualmente qualche spruzzata di neve potrebbe interessare i rilievi montuosi al di sopra dei mille metri. Questo tra martedì e mercoledì. Inverno dunque che farà la sua comparsa in punta di piedi almeno per il momento ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it